Si apre bene il girone di ritorno per la Infodrive Capodorlando. La formazione di Robustelli conquista una bella vittoria esterna sul campo di Vicenza, la quarta in stagione e contemporaneamente ribalta anche la differenza Canestri con i Veneti. 14 punti in classifica per i biancoazzurri adesso che riscattano la sconfitta giunta nei minuti finali contro Padova, andando a meno due dal sesto posto. Una vittoria netta per l'Orlandina che vince e convince, portando tutto il quintetto in doppia cifra. 14 punti per Becerina, 11 per Laganà, Passera e Baldassarre, 10 per Klanskis. Inizio equilibrato del match con i biancoazzurri che chiudono i primi 10 minuti in vantaggio, 13 a 15. L'Orlandina con Triassi e Baldassarre si porta avanti fino al più 7, ma Vicenza rimonta e va negli spogliatoi addirittura sul più 1, 30 a 29. Al rientro dalla pausa lunga e ancora grande equilibrio, Vicenza prova nuovamente ad allungare, ma Laganà e Vicenza tengono in vita l'Orlandina. Due punti di Passera e una tripla di Binelli portano i biancoazzurri a chiudere in vantaggio il terzo periodo sul 47 a 50. L'ultimo parziale si apre con i canestri di Triassi, Passera e Occhereche per il più 8 siciliano. Cucchiero prova a rispondere all'intensità degli ospiti, ma Vicenza con una bomba tocca il massimo vantaggio, più 11 a 3 minuti dalla fine. La partita finisce virtualmente qui, con i minuti finali che sono pure Garbage Time. La gara si chiude così sul 63 a 73 per la Infodrive, che continua ad inseguire la zona playoff.